piccolo custom edc da jasper voxnass, detto vox, la maricatura in kydex, il coltello in rvl 34 con guancetta da un solo lato, l'altro lato come vedete è completamente piatto, il bisello è soltanto da un lato, la maricatura come vi dicevo è in carta canvas, acceio rvl 34 abbastanza spesso, ha un piccolo incavo qui che serve per i lavori di precisione e delle piccole striature per l'impugnatura, modello molto bello, spaziatore rossi, questo è un custom, fa pochi modelli tutti diversi fra loro, questo è un kiridashi, come vedete l'impugnatura serve per lavori di precisione, molto bello, ha anche un frangi cristalli, qua c'è il marchio, coltello coltello molto ben fatto, coltello molto ben fatto, coltello molto ben fatto.